Con il derby fra il Borgo Rapallo e il Moconesi, poi Borzo, Limarasi Quezzi, Fulgor, Ponte X, Goliardica, Prorecco, Campese, San Gottardo, Avegno, Sori, Recco 0-1, Valdaveto, Riva Rolese e Vecchia Odace, Via dell'Acciaio. Borgo Rapallo-Moconesi, subito derby, il Borgo Rapallo si dovrà riprendere dalla sconfitta con la Campese. E non è fortunato il Borgo Rapallo, perché il calendario li mette subito di fronte un'alta delle grandi del girone, quindi è una partita sicuramente difficile, per di più un derby. Quindi, insomma, si poteva sperare in un calendario un po' più favorevole in questa circostanza. Per dire, sicuramente è da vedere questa, comunque, perché aperta ad ogni pronostico, Borgo Rapallo ha chiamato un riscatto, il Moconesi però deve vincere per non perdere contatto con le posizioni di test. Anche la Valdaveto con la Riva Rolese è un'altra candidata al titolo. Altra bella partita, Riva Rolese con Dodo Veroni scatenato a questo inizio di stagione, anche lui è un giocatore che non c'entra nulla con la prima categoria. Può uscire fuori, è una partita molto bella, la squadra pensa che giochi una pallone, entrambe. Un impegno difficile per la Valdaveto, però la Valdaveto arriva a questa gara con, penso, i nervi tranquilli. Forte in inizio di campionato positivo, non ha molto da perdere, quindi può giocarsela a darmi pari. Chiudiamo la parentesi sul girone C, andiamo a vedere quello che è successo nella terza giornata nel girone D. Marco, brutta sconfitta per i sestieri di Levaggi. Brutta, inaspettata e preoccupante soprattutto per le dimensioni. È vero che i sestieri di domenica hanno qualche problema di formazione, sono andati contati nello spezzino, le Valdaveto hanno dovuto fare un po' di necessità virtù, come si dice in questi casi, e questo ha influito. Indubbiamente, una squadra che non ha un organico comunque amplissimo, dover rinunciare a alcuni elementi importanti ha influito sicuramente sull'esito della gara. Adesso il fatto che perdere 5-0, diciamo prima per il Borgo Rapallo, che ha perso 4-0, per i sestieri fa ancora più male, anche perché va a interrompere un po' una striscia positiva che durava praticamente dallo scorso campionato. Insomma, sestieri lo scorso anno, squadra rivelazione nella stagione, quest'anno è iniziata così così con un pareggio a casalingo, esserano però poi rifatti la domenica successiva. Andando a vincere in casa della Bolanese, è derivata questa battuta d'arresto che rischia di far male. Anche in questo caso per i sestieri è necessario voltare immediatamente pagina. Una squadra che ha delle qualità, che si è rinforzato, che non arrivi importanti come Anif, Lauricella, però queste battute d'arresto devono rimanere un episodio isolato. Invece sulla vittoria dell'S Gesta per una rete a 0 contro il Focevara abbiamo le immagini, quindi andiamo a vedere il servizio. Grazie a tutti. 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 Abbiamo visto quindi il gol del Segesta contro il Focevara, andiamo anche a sentire Paolo Zanardi intervistato da Alessandro Bellagamba a fine partita. Paolo Zanardi, mister del Segesta, fa un commento della partita? È stata una partita molto dura, abbiamo messo un piano che a noi compete un po' meno, quello caratteriale, però siamo stati bravi anche da quel punto di vista. stiamo partendo. numerose di numerose assenze, ma chi gioca è una partita è una partita in sé, ma chi gioca è una partita in sé, fino a quattro anni fa una partita simile per il Segesta era solo impensabile affrontare il Focevara che era addirittura in Serie D. Quindi affrontarlo e batterlo è stato un notevole merito per tutta la società e credo che sia importante andare avanti su questi livelli. Invece il prossimo turno? Il prossimo turno giochiamo con Riccola e Rondini, che è una neopromossa, una matricola come noi, e che ci accomuna il fatto di aver comunque dominato un campionato di seconda categoria lo scorso anno e quindi aver traghettato in questo campionato questa mentalità vincente. Quindi è stata una partita d'alta classifica che entrambe vorremmo vincere e cercheremo di andare là a San Benedetto e spugnare un campo difficilissimo. Marco, invece il Segesta è iniziato bene, due vittorie in casa, è arrivata una sconfitta domenica scorsa, però un bel cammino. L'ambientamento nella prima categoria è stato buono, deve stare in casa, positiva, deve un po' sfatare ora il tabù delle trasferte, prima la persa, ci può stare, effettivamente poi andare a giocare alla Spezza, lo sappiamo bene. È sempre difficile, Segesta è una squadra che ha di valori tecnici importanti, innesso come quello di Cotelesa, che torniamo al vecchio discorso, i giocatori che non c'entrano nulla con la presa, prima. Già l'anno scorso è una squadra molto tecnica in seconda che per lungo periodo ha dominato il campionato, salvo poi lo sorpasso alla fine subito per mano dell'Avegno. Ha iniziato bene, è una torre molto preparata, anche in questo caso c'è molto entusiasmo, ripeto, iniziare a fare qualche punto fuori casa, poi il Segesta può diventare una sorta di mina vagante del torneo. Bene, andiamo a vedere anche la classifica con il Nombosco Spezia, il vecchio Levanto, in testa 7 punti, 6, Foce del Magra, Ricolle Rondini, Foce Vara e Segesta, 4 punti per Ceparana, Castelnovese, Canaletto, Arsenal Spezia, Sestieri, Termo, Rio Major, 3 punti il San Lazzaro con il Mazzetta Candor, 1 il Marolacuassante e 0 la Bolanese. Anche per il Girone D abbiamo la classifica marcatori, che vede Giacobbe e Scardavilli in testa con due reti, Giacobbe del Segesta, Scardavilli dei Sestieri a una rete, Paolo Gilardi del Segesta, Lauricella dei Sestieri, Riva del Segesta e Federico Zanardi del Segesta. Sguardo anche al prossimo turno, con il vecchio Levanto che va in trasferta in casa dell'Arsenal Spezia, Castelnovese, Termo, Rio Major, Foce Vara, Canaletto, Foce del Magra, Ceparana, Marolacuassante, Don Bosco, Spezia, Ricolle Rondini, Segesta, San Lazzaro, Bolanese e Sestieri, Mazzetta Candor. Marco, i Sestieri affrontano Mazzetta Candor, che non è una squadra debole, però vista la classifica può essere una gara abbordabile per la formazione di Levaggi. Sì, vista la classifica sì, è una squadra che probabilmente non sta attraversando un buon momento, però il Mazzetta è una squadra di categoria, sempre poi è stata una squadra molto tignosa, lo sappiamo da anni, è una di quelle squadre che non mollano mai, tra le più difficili da affrontare, quindi è una partita per nulla semplice, i Sestieri devono mantenere i nervi freddi, sanno giocare molto bene a pallone, i Sestieri sono una squadra che ha questa caratteristica, devono sfruttarla soprattutto nelle partite casalinghe, dove magari viene meno un po' quel fattore agonistici che invece si subiscono andando nello spezzino. Invece per il Segesta è uno scontro diretto, anche se sono giocate solo tre partite, perché anche Ricollerondina ha sei punti, come la formazione di Mister Zanardi. Sì, la classifica dice questo, effettivamente ora dopo tre giornate magari per la riscontro diretta è forse un po' presto, però questo dice la classifica. Ripeto, anche in questo caso, il Segesta se iniziasse a fare punti fuori casa sarebbe molto importante. Non credo sia una partita proibitiva, il Segesta ha tutte le possibilità per fare il risultato, arriva con il morale a mille dopo la bella vittoria di domenica scorsa in casa, perciò sono tutti gli ingredienti per tornare dalla spezia questa volta con un risultato positivo. Abbiamo visto anche tutto quello che riguarda il campionato di prima categoria Girone D, rimanete con noi perché dopo la pubblicità Silvia Rovegno e Marco Pagliettini con Tutto Seconda.